Si parte spesso da lì, dal male di vivere. Chi non l'ha incontrato, chi non l'ha incontrato nella sua vita? Quando appunto tutto funziona magari ma niente ha più senso, quando ci sentiamo fuori posto, quando ci sembra di vivere la vita di un'altra persona, allora è il momento in cui si può svegliare o possiamo chiederci di cercare qualche cosa che dia calore, colore, bellezza, importanza alla nostra vita. E allora ecco che possiamo fare un incontro con la passione, se ce lo chiediamo la troviamo dentro di noi, perché dentro di noi c'è un potenziale passionale, sempre, fa parte dell'istinto.